Hola a todos, ciao a tutti, benvenuti a Rilá de la S, la tua scuola di espagnolo. Oggi andiamo a studiare i verbi più usati in cucina. Se ti interessa ti aspetto dopo la intro. Per chi non mi conosce ancora, sono Ana e sono insegnante di espagnolo. Ma prima di iniziare il video vorrei invitarti a iscriverti del canale, in questo modo sarai sempre aggiornato con i nuovi video. Si ritiene interessanti poi anche condividere i video con i tuoi amici. E se mi lasci un like ti ringrazio tantissimo. E adesso sì, andiamo a vedere il video. Verbo spara la cocina. Iniziamo con picare, sminuzzare, tagliare a pezzettini piccoli. Ervir, bollire, la H, ricordate, non si pronuncia. Freir, friggere, freir. Ornear, ecco a qual'altra H, non si pronuncia davanti la parola. Infornare. Condimentar, condimentar con sal, con pimienta. E spolvorear, spruzzare. Liquare, frullare, liquare. Batir, battere, battir. Moler, macinare, moler. Añadir, aggiungere, attenti la N con la virgola. Cuello è la Eñe, suono Ñ. Escurrir, scolare. Escurrir, attenti la doppia R forte. Amasar, impastare, amasar. Estirar, estendere, estirar. Hervir, a fuego lento o a fuego bajo. Cochere, a fuego lento. Mez, mezclar, mezclar, mezcolare. Asar, arrostire, asar. Dorar, dorare. A te te gusta cocinar? A te piace cucinare? Ya conocías estos verbos? Ya conoscevi questi verbi? Allora déjamelo en los comentarios, lasciami nei commenti che volentieri vi risponderò, ti risponderò. Noi ci vediamo nel prossimo video, ma prima ringraziate che sei arrivato fino qua. Ti vi un grande bacio, un gran beso, un gran abrazo e nos vemos nel prossimo video. Estudia, estudia, estudia.